Le guerre rendono le donne più vulnerabili e portano con sé nuove forme di violenza. In occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la rete nazionale Hauser organizza numerosi appuntamenti territoriali legati alla campagna Educhiamo al rispetto. Iniziativa nazionale promossa da Hauser che ha visto nell'ultimo anno tanti giovani, adulti e anziani confrontarsi insieme per costruire una cultura di rispetto. Una società libera da ogni violenza di genere e dai linguaggi tossici. Vogliamo dare visibilità ad un tema che affrontiamo costantemente e che caratterizza ogni giorno il nostro impegno di donne e uomini e dei valori della nostra associazione. La giornata del 25 novembre offre anche un'opportunità fondamentale per riflettere sui legami profondi tra le guerre e l'aumento della violenza sulle donne. Le guerre sono amplificatrici delle violenze sulle donne e le situazioni di conflitto producono un ambiente fertile per la violenza di genere. dato che le infrastrutture sociali crollano, le leggi vengono meno rispettate e la paura si insinua nella quotidianità. Inoltre le guerre portano con sé nuove forme di violenza come lo stupro come arma di guerra, la tratta di giovani donne e la schiavitù sessuale. Il 25 novembre ci ricorda, ogni anno con maggiore consapevolezza, che la lotta alla violenza sulle donne è un impegno continuo e che le guerre rappresentano una delle maggiori sfide. È necessario un impegno globale e coordinato per porre fine a questa ed altre piaghe e costruire un futuro in cui tutte le donne possono vivere libere dalla paura e dalla violenza.